Ma prima si parlava del codice sportiva, io credo che quando l'articolo 1 del codice parla dell'edità sportiva e quando viene imprando questo, chiunque non può più far parte di uno sport, perché lo sport è aggregazione, lo sport è competizione, lo sport è un qualche cosa che va al di là, quindi lasciamo le altre queste cose e noi dobbiamo solo cercare di dare il meglio di noi stessi e poi possibilmente di vincere, ma se non ci riusciamo bisogna lasciare perdere gli altri sistemi, gli altri metodi, quindi mi auguro che noi tutti possiamo fare qualcosa per rendere qualcosa in un'altra vita.